E' tornato ancora una volta a trovarci qui nei nostri studi il giovane Federico Monzoni, campione di Downhill. Con lui parliamo dell'ultimo evento a San Lorenzo di Treia che ti ha visto protagonista e ti ha visto anche salire sul podio con un meritato secondo posto. Medaglia quindi d'argento per te in questa quattordicesima edizione del Gravity Race Cup. Per chi non lo sapesse, di che manifestazione stiamo parlando? E' una manifestazione di Downhill che è uno sport affermato negli ultimi anni come ho già detto diverse volte. E' una manifestazione a livello nazionale anche se si sviluppa prettamente nel centro Italia questo circuito che è il Gravity Race Cup. E' stato un bel fine settimana ricco di eventi in cui comunque lo Smilebike ha portato avanti questo evento con più di 150 persone in maniera splendida. Oltre 150 atleti, protagonisti appunto a Treia, con te sul podio altri due giovani, vogliamo ricordare anche loro? Sì, allora diciamo che la scaletta è variata dalla prima alla seconda mancia in cui le prime due posizioni erano riservate ai due junior, quindi alla categoria inferiore alla nostra. E quindi i grandi abbiamo voluto un po' ristabilire la cierarchia nella seconda parte della gara riprendendoci i primi tre posti. Prima posizione per Simone Medici, è un ragazzo molto forte a cui io ho dato un pochino filo da torcere anche se poi alla fine è stato lui il vero vincitore dell'evento. E poi Riccardo Rabuffo, un ragazzo avruzzese che è arrivato poco dopo noi in terza posizione. Davvero poco lo scarto che non ti ha visto conquistare anche in questo caso il primo gradino del podio? Sì, alla fine si parla di un secondo poco più in una pista in cui fra la prima e la seconda mancia abbiamo recuperato più di cinque secondi. Da atleta della Nazionale Italiana di Downhill quali saranno i tuoi prossimi impegni? Perché lo ricordiamo che la stagione è da poco iniziata. Sì, è appena iniziata e diciamo che con la nazionale è stato fatto fino a questo anno più un lavoro rivolto ai giovani e quest'anno che sono passato nella categoria Elite diciamo fra virgolette ho ceduto il posto a quelli che invece sono ancora nella categoria Junior. Ciò non toglie che magari in un paio di occasioni quest'anno potreste vedermi in maglia nazionale per alcune competizioni di Coppa del Mondo. A seguirti sempre i tuoi familiari ma anche tanti supporter che ti hanno seguito in questa attività agonistica nel corso di questi anni un grazie va anche al team che ti sta seguendo. Sì, quest'anno cambio di casacca, sono con il Rugger Racing Team in cui abbiamo mantenuto come allenatore il mio precedente presidente della squadra Tartana Bike e poi comunque ad assecondarmi, a darmi una mano ci sono assolutamente tutti, dai miei genitori, ai miei amici, al mio primo team, lo Smile Bike. Quindi siamo più una grande famiglia che una squadra. Un sogno nel cassetto che speri di realizzare nei prossimi anni? Sicuramente trovare un impiego, un futuro in questo mondo che è il mondo che comunque mi sento di appartenere. Parallelamente prosegui anche nella carriera scolastica? Sì, quest'anno è l'ultimo anno di superiori, quindi comunque ho dato anche più spago allo studio, altrimenti comunque restava abbastanza difficile fare un giusto connubio fra scuola e sport. Quindi ho dovuto un pochino dosare anche a livello di gare e speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita e ci vediamo agli esami in stato.